Il cavallo è stata molto brava, hai vinto un vialato da 70 anni. Però adesso devi mettere a posto il cavallo, invece noi dobbiamo portare Ludovica di solturare, dove lavarsi per le cucine. Sì, hai capito? Ti hai invitato a cercare del zoo? Io ti ho detto che sia. Comunque è il mio compiliano, perché è l'armina del anno. Oh, figlio mio! Hai già chiesto? Non mi stavo portare, porto. No, ma non mi stai chiesto. Oggi, stai chiesto, perché si va a fare. Non mi stai chiesto.